buongiorno sono il dottor vincenzo altieri urologo oggi vi parlo del prolasso della vescica o cistocele il cistocele è una condizione per cui la vescica si prolassa quindi si esteriorizza ed è causato prevalentemente dalla perdita di tonicità del pavimento pelvico questo accade in particolare nelle donne che hanno avuto più gravidanze e che non hanno eseguito durante gli anni di vita esercizi fisici tali da rinforzare appunto la muscolatura del pavimento pelvico è necessario trattare il cistocele quando iniziano dei sintomi quali appunto in particolare la ritenzione urinaria cronica oppure l'incontinenza urinaria in alcuni casi o quando il cistocele stesso crea una sintomatologia da ingombro quindi ecco questo palloncino che esce fuori dalla vagina e che dà fastidio durante il normale attività della vita quotidiana a quel punto si può trattare si può trattare in particolar modo in maniera chirurgica quindi con tecniche mini invasive laparoscopiche che offrono comunque ottimi risultati con un minimo trauma chirurgico con tre giorni di ricovero e naturalmente un periodo di convalescenza di circa un mese evitando sforzi addominali